Bella a tutti ragazzi, io sono Simeon e oggi andremo a toccare un argomento che in molti saranno dubitanti su questa cosa, ma appunto ne andremo a parlare, ovvero, come suppongo che avrete già visto da quest'immagine, andremo a parlare di Galactus. Allora, la domanda che andrò a risolvere oggi, così come se l'antimonitor può creare una crisi omniversale, è Galactus può distruggere un universo o un multiverso? Bene, andiamolo subito a scoprire. In molti dicono che Galactus non riesca a distruggere molto, circa un universo non lo riesce a distruggere, secondo molti. Però, perché lo dicono? Perché dicono giustamente, ma noi vediamo nei fumetti che Galactus divorrà pianeti, no? Che distrugge universi, eccetera, eccetera. Sì, questo è vero. Però, voi, se leggeste i fumetti, sapreste quanto è realmente potente Galactus. Nei fumetti, le sue imprese sono tali da dimostrarsi uno realmente fortissimo. Per farvi capire, lui riuscì a contenere un attacco di Odino al massimo del suo potere quando lui era ancora affamato, cioè Galactus era ancora affamato, e tenne un attacco di Odino al massimo della sua forza. In quanti, di sicuro, mi direbbero, eh, ma Odino non sembra forte? Quello dei film. Ricordatevi, quello dei film, non quello dei fumetti, perché quello dei fumetti ha veramente poteri elevatissimi. Per farvi capire una delle sue più grandi imprese, Per chi ha ancora dubbi sulla forza del nostro caro padre degli dèi Asgardiani, ora vi elencherò cinque delle cose più forti che ha mai fatto. Oltre a mettere in difficoltà Galactus, 1. Riesce a combattere contro Surtur senza problemi. 2. Oltre a evitare che i suoi nemici possano pensare, Può letteralmente, Cioè, scusate, Ha un livello di manipolazione a livello mentale elevatissimo, Cioè, ha un controllo mentale elevato, Telepatia elevatissima, appunto. Volete un esempio? Quando Thanos e Professor X, che non sono i primi che passano, Provano a entrare nella mente di Galactus, A entrare in contatto con lui, Le sue difese non fanno passare Proprio i migliori giorni a questi due tizi. Odino ci riuscì, invece. Poi, Può fermare il tempo con il solo genno della mano In tutto l'universo. Durante la battaglia con Forzung, I suoi passi fecero tremare talmente tanto l'universo Che il suo passaggio creò nuovi soli. E, per chi ha ancora dubbi, Su quanto sia realmente potente, Lui, oltre a combattere Surtur, Ed esserci alla pari che Surtur riesce, Letteralmente, Sarebbe capace di distruggere L'albero che rappresenterebbe quasi come distruggere Terra 616, Durante la battaglia con Seth, Il loro scontro non solo ha distrutto Galassie, Ma rischiava di distruggere l'intero multiverso Marvel. Quindi adesso non mi venite a dire che Galactus non è resistente O che non riuscirebbe a tenersi degli attacchi molto forti Da nemici molto forti Poiché tenersi un intero attacco di uno Che ha letteralmente rischiato di distruggere l'intero multiverso Marvel Il multiverso Marvel, per farvi capire, È complesso E essere un multiverso complesso, ma non infinito, come quello della Marvel, Equivale ad essere pressoché più di un multiverso infinito, Cioè, valere molto più di un multiverso infinito. E di questo ne ho la certezza, poiché su vari siti ne parlano letteralmente Di questa cosa, come se fosse vera. Comunque, poi, per chi avesse altri dubbi, Ora, non so in quanti si ricordano i celestiali. Ecco, quegli esseri che hanno pressoché plasmato il multiverso. Praticamente, durante lo scontro con Thanos con il guanto dell'infinito, Due dei più potenti, o pressoché il più potente è un altro, Hanno utilizzato interi pianeti contro i lui. Durante lo scontro con Odino, i celestiali, di livello più basso, Riuscivano a battere lui, che aveva l'armatura del distruttore, E con l'armatura del distruttore Odino, Può addirittura uccidere gli immortali e vedersi la entità cosmica. E quindi, ragazzi, non mi venite a dire che Odino sia scarso, Poiché con questa armatura è letteralmente OP. Ecco, questi celestiali erano di livello basso. Galactus, per combattere quelli tra i più forti, era sazio, E ne ha combattuti quattro, e ne ha addirittura ucciso uno, Talmente che i tre celestiali rimasti in vita Hanno fatto tornare in vita quest'altro celestiale E si sono uniti in un unico grande celestiale Che ha colpito Galactus, come quello che vedete adesso Quindi, ragazzi, per resistere a Odino Attacchi di Thanos con il guanto dell'infinito Che è riuscito a sorpassare non solo lui Ma anche altre undici entità cosmiche Che non è che sono poche Poi, è riuscito a combattere i celestiali Il che ci ha dimostrato una volta per tutte Che lui è più forte dei celestiali E per batterlo quattro celestiali si sono dovuti unire In un unico singolo grande celestiale In più, ragazzi, se ancora avete dubbi Su quanto sia realmente potente Galactus Questa cosa vi farà di sicuro cambiare idea L'ennesima prova che ci dimostra Che Galactus è realmente uno degli esseri più forti Alla Marvel E che al suo cento per cento Lui è riuscito a combattere con multi-eternità Ora, multi-eternità è letteralmente La rappresentazione del multiverso Marvel E già solo Dormammu aveva detto Che con solo un'eternità Poteva restartare tutto il multiverso Quindi, una sola eternità Ha una forza multiversale Immaginiamoci l'eternità del multiverso Quindi, ragazzi, la risposta alla domanda di oggi Se Galactus può distruggere un universo o un multiverso È effettivamente sì In quanto tutte le feats di cui vi ho parlato prima Dimostrano la sua quasi onnipotenza Quindi, ragazzi, se il video vi è piaciuto Lasciate un mi piace Iscrivetevi al canale E attivate la campanellina e le notifiche In più, ragazzi Se volete dire la vostra La sezione commenti è libera E potete farlo Qui da Simone è tutto Alla prossima Ciao